Buonasera, grazie. Stavo cercando la pagina dei numeri perché di solito tratto numeri, ma questo sarà un discorso e non una sequenza di numeri. Anzitutto grazie a tutti per essere qui, sono proprio contento, sono proprio felice di parlare in questa piazza qui davanti a voi. Diciamo che non saranno certo i comizi forse a modificare il risultato elettorale, a determinare il risultato elettorale. In una comunità come la nostra, che è poco più di 4.000 anime, con 36 candidati, con una campagna elettorale inoltrata, insomma è difficile che qualcuno di voi qui non sia posizionato. Però voglio dire che è sempre una bellissima occasione, l'occasione per un candidato consigliere poter esprimere quello che è il proprio pensiero, la propria idea, farsi conoscere ulteriormente e anche l'occasione per voi, voglio dire, di conoscere ancora meglio i candidati, di conoscere il proprio pensiero, le proprie idee e entrare in correlazione. E' proprio di questo che parliamo, parliamo proprio dell'idea. L'idea che, alla base di ogni ragionamento, Sandro lo accennava pure, è la campagna elettorale che vorrei fare questa, la campagna elettorale sulle idee, sui programmi, sulle cose che vogliamo fare, che vogliamo attuare in questo paese. Auspicavo che fosse la campagna elettorale di tutti e spero ancora che la sia. Quindi un'idea, un pensiero, l'esposizione di un pensiero, dell'idea che sta alla base della democrazia, no? Una persona che non ha idee si qualifica da solo, una persona che non ha idee, come dire, le conseguenze di questa mancanza di idee si riflettono sulla sua persona, su quello che è l'ambito suo relazionale. Se è un'amministratore a non avere idee, la questione diventa più complicata, perché non investe solo la sua sfera personale, ma se non ha idee investe una sfera un po' più ampia che quella dell'amministrazione del paese e quindi quella della comunità. Quindi avere o non avere idee all'interno di un'amministrazione può costituire una scriminante fra quella che può essere un'azione e quella che può essere un immobilismo. Un'idea precisa di solito sottiene a un'azione precisa, no? La mancanza di idee all'interno di un'amministrazione può pregiudicare, mortifica sicuramente la comunità e può pregiudicare anche lo sviluppo della comunità. Per questo è importante che i candidati, che i candidati consiglieri vengano qui e si presentino su questo banchetto e si relazionino con voi, entrano in sintonia con ognuno di voi. Per me qui siete una platea, siete tantissimi, per ognuno di voi entra in relazione col candidato consigliere e lo osserva, lo guarda, lo giudica, no? E' questo, perché qui non è che dobbiamo giudicare le capacità oratorie dei candidati consiglieri, qui dobbiamo giudicare la capacità di idee, di esprimere idee, di esprimere pensieri, perché un amministratore che non ha idee produrrà un'amministrazione senza idee. E quindi è qui il vostro compito poi delicato, fondamentale, successivo, no? Che è quello di guardare il candidato, di traguardarlo anche in una dimensione prospettica e di immaginarlo all'amministrazione di un paese, no? E quindi una persona che sia in grado di dare un contributo di crescita, di sviluppo nel paese, che consenta al paese di fare passi in avanti, quindi una persona che interpreti pienamente il ruolo del candidato consigliere, una persona che sia capace, attiva, che sia capace di leggere quelli che sono i bisogni e le esigenze del proprio territorio, che sia capace di dare risposte concrete alle esigenze e ai bisogni, una persona dinamica, piena di idee, una persona competente, una persona che sia in grado di sviluppare progetti, che sia in grado di attrarre risorse, una persona che sia in grado, in sostanza, di modificare e migliorare quella che è la qualità della vita di tutti noi. Questo per me è il candidato consigliere, prototipo. Grazie. E questo ognuno di voi lo traguarderà in ogni lista, no? A seconda di quelle che sono le preferenze. E però due cose inoltre il candidato deve tenere sempre in considerazione. Che la sua azione deve essere rivolta sempre al miglioramento del paese. e sempre a migliorare le condizioni di sviluppo economico, sociale e culturale del paese. E la sua azione deve essere sempre rivolta affinché non si verifinino condizioni negative che possono compromettere lo sviluppo economico, sociale e culturale del proprio paese. Queste sono le due condizioni secondo le quali io ho cercato di muovermi in questi anni e sulle quali consiglio ai candidati consiglieri di muoversi. Ho parlato delle condizioni negative che l'azione del candidato consigliere non dovrebbe mai consentire che si verificano perché adesso voglio fare un esempio pratico. Sulle condizioni invece positive di sviluppo dirò quello che noi abbiamo in mente di fare per questo paese. Per quanto riguarda una delle condizioni negative che in questo comune hanno messo a rischio la tenuta di un sistema sociale, di un sistema economico io vorrei parlare dell'aumento della pressione fiscale di questi 5 anni di cui io sono stato testimone diretto in consiglio comunale. Quando si parla di fisco, di pressione fiscale la materia comincia a diventare ostica e quindi è difficile comprendere, è difficile spiegare, è difficile un po' tutto. Io per cercare di spiegare cosa voglio dire e a cosa mi riferisco in particolar modo alle condizioni negative che si sono create parto dalla fine, parto dal risultato di un'amministrazione. In questi anni più volte ci siamo sentiti dire in tantissime occasioni che i conti del comune sono a posto, che è tutto a posto, che siamo addirittura in avanzo di amministrazione. Questo avanzo è stato pubblicizzato notevolmente, è stato portato quasi in termini di risparmio. Allora l'avanzo di amministrazione, lasciamo stare il profilo tecnico su quello che è un'avanzo di amministrazione, diciamo semplicemente che un'avanzo di amministrazione è normalmente dato dalla differenza tra le entrate comunali rispetto a quello che sono le spese, la capacità di spese e quindi le uscite. Mi spiego meglio, se io comune, io amministratore, a te cittadino chiedo 10, giusto? E poi di fatto impiego 4, il 6 che deriva la differenza diventa avanzo di amministrazione. Cosa vuol dire? Il cittadino, la domanda è legito, scusami amministratore, ma per quale motivo mi hai chiesto 10 se poi hai speso 4 e i 6 che sono soldi miei dove sono finiti? Dice giustamente il cittadino. I 6 vanno a finire in un fondo, vanno a finire in un contenitore che è l'avanzo di amministrazione, che è vincolato e non può essere speso secondo linee ordinarie e quindi il cittadino ancora per presto dice sì ho capito ma c'è una doppia problematica, quindi o hai fatto mali conti e mi hai chiesto più di quello che dovevi materialmente spendere o mi hai chiesto giusto ma poi durante il cammino ti sei perso e non li hai spesi tutti e 10, giusto? E quindi il cittadino rimane perplesso anche perché queste cose non le sa il cittadino il cittadino paga e non sa che fine fanno i propri soldi, ve lo dico io ci sono stati 3 anni, vi dico gli ultimi 3 anni 2014, 2015, 2016, avanzi di amministrazione 1 milione e 100 mila euro, 1 milione e 900 mila euro e 600 mila euro l'avanzo di amministrazione è una risorsa che viene sottratta ai cittadini e che non viene impiegata negli impegni di spesa quindi io ti dico dammi 10 che devo realizzare alcune cose devo pulire le strade, devo sistemare gli impianti pubblici, devo sistemare gli impianti sportivi dopo lungo la strada ne spendo 4 e 600 dici vabbè intanto lo accantano ma 600 sono i soldi dei cittadini, 600 sono i soldi che inizialmente mi avevi detto che io ti devo dare per la tua azione amministrativa per quale motivo i soldi dei cittadini devono rimanere vincolati in un fondo e devono essere sottratti alle disponibilità economiche di una famiglia per quale motivo bisogna fare gli avanzi di amministrazioni elevati noi non siamo una società per azione, siamo un comune, non produciamo utili non produciamo dividendi che devono essere distribuiti noi abbiamo un obiettivo che è quello del pareggio di bilancio io ti chiedo 4 perché voglio realizzare 4 non ti chiedo 10 perché voglio realizzare 4 e mi accantono 6 e quindi voglio dire il cittadino stasera sarà ancora più sbalordito perché si renderà conto che negli anni non si tratta di centinaia di euro si tratta di quasi milioni di euro che sono stati accantonati agli avanzi di amministrazione e che l'avanzo di amministrazione tecnicamente sia un esempio di cattiva gestione non lo dico io, lo dicono gli esperti di contabilità di enti locali lo dice la Corte dei Conti, le numerose sentenze, lo dicono tutti gli avanzi di amministrazione se associati ad aumenti di imposta come sono successi in questi 5 anni sono sinonimo di cattiva gestione finanziaria di una pressione fiscale oppressiva che non è rapportata a quelli che sono i servizi che devi coprire l'azione amministrativa che devi espletare e in più non serve conseguire avanzi di amministrazione così consistenti se questi avanzi non hanno traduzione in termini di servizi sul territorio in termini di decoro urbano, in termini di viabilità, in termini di illuminazione e in termini di tutto quello che concerne la qualità della vita di un paese e quindi la pressione fiscale in questi 5 anni è aumentata a dismisura adesso lo vedremo quando 5 anni fa sono arrivato in Consiglio Comunale la prima questione spinosa sulla quale mi sono imbattuto è stato l'aumento delle alicute del limono quando sono arrivato l'ICI, ancora ICI era montava una somma di 400.000 euro poi entrò il governo Monti si passò all'IMU e l'IMU è stato innalzato in Consiglio Comunale sulla base di un piano finanziario pieno di errori io l'ho contestato, l'abbiamo contestato mancavano tantissime variabili non poteva essere preso a base per l'aumento delle aliquote mancavano mancava tutta la parte relativa alla valorizzazione delle aree fabbricabili nonostante tutto le aliquote relative al limo sono state aumentate e il limo è stato aumentato per la prima abitazione l'abitazione a disposizione ora voglio dire l'abitazione a disposizione a Campo Calabro sappiamo qual è è l'abitazione di un padre, di una madre che con sacrificio hanno alzato un palazzo di tre piani pensando che i suoi figli rimanessero qui poi un giorno hanno scoperto di essere soli e di avere due piani sopra finiti che devono pagare come abitazione a disposizione cioè aumentare l'aliquota sulle abitazioni a disposizione a Campo Calabro non è un aumento che colpisce i ricchi è un aumento che colpisce le persone che con sacrifici hanno elevato quei due piani e io le ho contestate tantissimo questo innalzamento di aliquote quando l'area tecnica successivamente ha inviato all'area finanziaria, all'area bilancio la valorizzazione delle aree fabbricabili si è scoperto, giustamente abbiamo preso tutti atto che la valorizzazione è così elevata da coprire abbondantemente la cifra che mancava di andare addirittura sopra il dato previsionale di bilancio quindi una dimostrazione palese che le aliquote non andavano aumentate eppure preso atto di questa cosa le aliquote sono rimaste tale fino a oggi sono invariate non sono state mai più modificate non si è più fatto marcia indietro su questa cosa mai più, è rimasto il dato di allora era 400.000 euro oggi di ICI, di IMU paghiamo 495.000 euro 100.000 euro di aumento poi vi è l'addizionale comunale IRPEF che è stata aumentata dallo 06 allo 08 e è passata da 210.000 euro a 330.000 euro altro aumento poi vi è la tassa su di tutti i rassi di armi ha una sequenza quasi scena che nell'ambito differenziata benissimo, benissimo è abbassare la tassa di rifiuti no, no, no aumentare di 45.000 euro ulteriormente ma come è possibile? si, restituiremo i soldi ai cittadini perché non sapremo come andrà a finire la differenziata i cittadini sono stati bravi hanno raggiunto il 75% di differenziata ma la tassa la sovratassa dei 45.000 euro non è stata mica restituita quindi quando io sono entrato in consiglio comunale nel 2012 la tassa su rifiuti era era 350.000 euro oggi è 460.000 euro con i 45.000 euro di aumento dell'anno scorso la cosa più sconcertante è la tassa dei rifiuti sapete qual è? perché i piani finanziari dell'Atari li studiamo li leggiamo tutti che quando conferivamo in maniera indiscriminata la spazzatura noi pagavamo di conferimento in discarica 225.000 euro sapete quanto paghiamo oggi? oggi essendo ridotta al 75% dovrebbe rimanere il 25% da conferire quindi sarebbero più di 40.000-50.000 euro nel bilancio di previsione nel 2016 quindi nel piano finanziario di 2016 vi sono 125.000 euro inspiegabile irrazionale non si può capire questa cosa com'è possibile che noi andiamo conferiamo in discarica il 25% di spazzatura di indifferenziato e paghiamo ancora 125.000 euro di conferimento in discarica impossibile impossibile è questa la parte sulla quale si può lavorare e si deve lavorare perché cosa? perché questa potrebbe sembrare polemica strumentale ma alla fine è importante perché questi 125.000 euro possono essere ridotti ridotti per le attività produttive per la nostra piccola economia che ha sopportato un peso durissimo per quanto riguarda la tasse dei fiuti i bar i ristoranti le pizzerie tutte queste società che hanno sopportato gli effetti distorsivi di questa tasse che sono visti veramente con le spalle al muro io credo che il primo intervento deve essere fatto su di loro questi 125.000 euro è l'impegno preciso che prendiamo per abbassare la tassa dei sui rifiuti e che deve in primo luogo andare incontro a queste piccole aziende a queste micro famiglie che sopravvivono in questo momento difficile e che nei confronti dei quali siamo vicini a loro è sicuramente un impegno che porteremo avanti l'altro impegno che porteremo avanti è quello sui numeri sulle famiglie con numerosi componenti anche lì l'effetto distorsivo dell'imposta si è sentito in particolare sull'elemento qualitativo che non è tanto i metri quadrati ma è tanto il componente e il numero familiare perché questa imposta ha un principio particolare che chi più sporca più paga quindi una famiglia con 5-6 componenti ha ricevuto veramente una bolletta che è da fare paura e anche su questi noi cercheremo di intervenire sempre dopo aver stato guardato le imprese e le realtà commerciali e poi vi è il canone idrico quando siamo entrati in consiglio comunale nel 2012 il canone idrico era di 300 quindi stiamo parlando acqua e depurazione era 360.000 euro oggi è 420.000 euro e poi a questo si aggiunge la tasse che è la tasse a vista nel senso che fa rifletto ai servizi pubblici essenziali e quindi io pago e in teoria dovrei vedere i servizi io pago e dovrei vedere l'illuminazione il verde pubblico il decoro urbano 130.000 euro l'anno che dovrebbero essere riversati nel paese in termini di servizi di base quindi complessivamente se facciamo un calcolo rapido rapido nel 2012 noi pagavamo 1.320.000 euro di imposte nel 2016 noi paghiamo 1.850.000 euro di imposte quindi con un aumento della pressione fiscale impressionante paghiamo in 5 anni 530.000 euro di imposte in più questo è il dato oggettivo incontrovertibile delle carte in 5 anni le imposte comunali a campo sono aumentate di 500.000 euro non credo voglio dire che questa sia una misura agevolativa nei confronti né delle famiglie né delle imprese né delle realtà commerciali io credo che si poteva fare molto di più che si doveva fare molto di più in consiglio comunale io credo che i consiglieri dovessero avere una maggiore consapevolezza di quello che stavano facendo e dovessero essere sicuri che il loro voto e la loro interpretazione del ruolo di consigliere non avrebbe creato gli effetti dannosi che ha creato nel nostro sistema economico e sociale sia sulle famiglie che sulle imprese questa è precisa responsabilità dei consiglieri questa è precisa responsabilità dei consiglieri e noi la nostra parte di opposizione l'abbiamo fatta abbiamo presentato proposte abbiamo presentato continuamente ad ognuna di queste ogni bilancio di previsione ogni consultivo abbiamo presentato un'alternativa ci sono i verbali ci sono le dichiarazioni che abbiamo fatto in consiglio comunale questo è per renderci conto di quale può essere di quale è di quale come dovrebbe essere interpretato secondo me il ruolo di un consigliere comunale quindi una persona attenta una persona che riesce a comprendere molto bene qual è la portata della sua azione e qual è la portata del suo voto qual è la portata della sua alzata di mano ogni qual volta in particolar modo si delibera un aumento di imposte nella convinzione che nel ventaglio delle ipotesi che ha una pubblica amministrazione l'aumento delle imposte l'aumento delle tasse comunali è l'ultima spiaggia l'ultima spiaggia che un'amministrazione deve perseguire dopo averne perseguite tutte le altre dopo essersi sforzata e dopo aver lavorato e ragionato sulle idee l'ultima spiaggia per quanto riguarda le condizioni di sviluppo le condizioni di sviluppo noi le abbiamo individuate sostanzialmente aggregate a quattro direttrici importanti sono quattro direttrici che sostanzialmente si interstacono e ne sviluppano altre condizioni di sviluppo in particolar modo faccio riferimento alla zona industriale quindi all'area di sviluppo industriale consorzio ASI al piano strutturale comunale faccio riferimento all'area dei fortini e faccio riferimento infine ai fondi strutturali e quindi ai fondi europei sono queste secondo noi le quattro condizioni di sviluppo su cui poter puntare per quanto riguarda il progresso sociale economico e culturale del nostro paese nei prossimi cinque anni quattro direttrici la prima zona industriale la zona industriale noi ce l'abbiamo qui la osserviamo da tantissimi anni cammina in parallelo con il nostro comune ma cammina in parallelo ognuno ha due vite separate come se fossero come se non si conoscessero come se loro non fanno parte del nostro territorio camminano con vite separate e non si intersegano mai mai perché l'intersezione anche causale potrebbe portare solamente giovamenti a questo paese eppure è un'area industriale importante sta in un'infrastruttura importante collegata con l'autostrada in un centro strategico ha delle realtà economiche importanti ma ha una scarsissima ricaduta anche in termini di occupazione sul nostro territorio poche unità sono impiegate anche in aziende di importanza nazionale e internazionale e e su questa noi abbiamo un'idea è chiaramente un'idea che va sovracomunale perché non possiamo pensare che il comune metta mano alla zona industriale voglio dire o faccia ipotesi di sviluppo della zona industriale se non attraverso un discorso molto più ampio cosa può fare il comune per la zona industriale e cosa può fare la zona industriale per noi noi immaginiamo una zona industriale anzitutto che sia riqualificata si parla oggi di zone industriali di seconda generazione zone industriali ecosostenibili quindi parliamo di un miglioramento di infrastrutture e di servizi infraaziendali parliamo di una politica di attrazione di imprese sotto un profilo fiscale che consenta a particolare tipo di imprese di poter arrivare e posizionarsi e fare imprese qui da noi parliamo di imprese ecosostenibili parliamo di imprese di servizi di imprese che si occupano di raccolta differenziata in termini di stoccaggio e di imprese che si occupano di raccolta differenziata in termini di lavorazione primaria queste sono le imprese che noi immaginiamo possono entrare a campo calabro chiaramente perché l'impresa non può compromettere comunque la salute dei nostri figli e non può sicuramente compromettere il nostro futuro e quindi in questi anni voglio dire il privato l'imprenditore non è che si è fermato cioè noi non l'abbiamo considerato in termini di amministrazione nel silenzio delle amministrazioni gli imprenditori sono andati avanti hanno creato delle bellissime realtà e io a volte penso e immagino cosa potrebbe essere questa zona industriale se vent'anni fa si fosse iniziato un percorso comune fra amministrazione e consorzio e imprenditori in un'ottica di pianificazione e programmazione condivisa cosa poteva essere questa zona industriale se già gli imprenditori si sono organizzati bene e stanno andando avanti bene da soli quindi abbiamo le competenze abbiamo le relazioni per poter dire la nostra all'interno dell'assemblea generale dell'ASI e sappiamo che tutto passa attraverso un rapporto sinergico con il comune di Villa con il comune di Reggio e soprattutto con la città metropolitana l'attrazione di investimenti chiaramente passa da questa azione sinergica e su questa sfida noi ci impegniamo a proporre e a portare idee e indirizzi poi viene il piano strutturale comunale il piano strutturale comunale noi lo consideriamo come un volano di sviluppo fondamentale per la nostra non se ne parla mai non se ne è parlato mai in questa campagna elettorale perché preferiamo parlare di altro il piano strutturale comunale come si fa a non parlare del piano strutturale comunale è fermo alla LAS da due anni è stato adottato dal Consiglio Comunale nel maggio del 2012 e nel maggio del 2017 è scaduto sono scadute le norme salvaguardia quindi si è tornato al vecchio piano di fabbricazione il piano strutturale comunale per noi è fondamentale perché mette in moto tutta una serie di meccanismi che fanno riferimento all'edilizia che fanno riferimento a un comparto che è vicino all'edilizia che fa riferimento a una realtà importante imprenditoriale nostra che negli ultimi anni ha visto naturalmente sotto gli occhi di tutti un tracollo generalizzato quindi il nostro impegno per quanto riguarda il piano strutturale comunale credo che l'impegno di tutti sia quello subito la settimana la settimana successiva di intraprendere di relazionarsi nuovamente con il responsabile unico del procedimento che ci ha inviato una lettera con una serie di prescrizioni da fare da osservare prima al fine di poter adottare il piano strutturale comunale il nostro atteggiamento è quello di un atteggiamento positivo un atteggiamento nei confronti dei responsabili del procedimento che è di collaborazione di intesa di ricerca di soluzioni è un atteggiamento nel tempo stesso che faccia capire al responsabile del procedimento che per noi è una questione di importanza strategica è una questione di importanza vitale abbiamo speso 300 quasi 50 mila euro per la realizzazione del piano e non intendiamo andare indietro e intendiamo procedere oltre per dare una condizione di sviluppo in più ai cittadini e poi vi è la questione Fortini la questione Fortini è più delicata noi c'eravamo già una condizione di sviluppo in mano perché stiamo parlando delle condizioni di sviluppo era il Fortino Poggio Pignatelli era nostro era nostro tanti sforzi onore dell'amministrazione uscente era passato al patrimonio comunale era nostro cioè dovevamo solo capire come lo volevamo gestire attraverso una società cooperativa di ragazzi che non lavorano del nostro paese magari no? sarebbe stata una bella idea attraverso un raggruppamento delle nostre associazioni abbiamo 32 e non sanno neanche dove andare a fare le riunioni nelle stanze potevamo creare società partecipate potevamo fare qualsiasi cosa del Fortino Poggio Pignatelli e invece il Fortino Poggio Pignatelli lo abbiamo ceduto a terzi cioè questa è l'idea di sviluppo che abbiamo l'abbiamo ceduto ad altri giusto? e l'abbiamo sottratto alle condizioni di sviluppo del nostro territorio l'abbiamo sottratto ai cittadini l'abbiamo sottratto ai nostri figli e l'abbiamo sottratto al futuro di questa comunità via l'abbiamo sottratto questa è l'idea di sviluppo che è stata messa in campo dopodiché ci siamo ammazzati a prendere il secondo Fortino onore al merito all'amministrazione abbiamo contribuito noi per una piccola parte speriamo di poter contribuire ancora sta per essere acquisito al patrimonio comunale mancano gli incartamenti finali cosa vogliamo fare di Forte Siacci? Forte Siacci è un forte monumentale importante bellissimo no? io credo che non ci sia dubbio no? cioè credo che la parola debba tornare ai cittadini il forte non è di nessuno non è delle amministrazioni il forte è dei cittadini forse i cittadini devono decidere cosa fare del forte o no? forse perché se cediamo anche Forte Siacci non lo so come noi possiamo anche lavorare per creare condizioni di sviluppo no? però Forte Siacci noi lo immaginavamo così come Poggio Minatelli in maniera particolare no? immaginavamo questo museo della guerra e della pace immaginavamo dei percorsi didattici immaginavamo un percorso di filate dei tessuti degli antichi mestieri immaginavamo dei percorsi di avventura immaginavamo tutta una serie di cose che avrebbero dato respiro respiro alla nostra comunità che avrebbero consentito voglio dire una sorta di sodalizio fra cultura fra civiltà fra interscambio di informazioni fra economia fare impresa ecco era tutta una cosa sinergica che sarebbe stata avrebbe avuto degli effetti solamente positivi e invece noi siamo qui vediamo le macchine che sta conoscendo gente che ci chiede indicazioni gente che sale a fare il catering da altri posti e le nostre realtà le nostre realtà economiche ancora arrancano con una condizione di sviluppo che ci è passata sotto il naso e che non possiamo più impiegare per almeno altri anni finché non scadono le concessioni e quindi voglio dire io quando penso a Fortesiacci me lo dico in tranquillità penso all'imprenditoria catanese e penso che loro sono stati in grado di fare nella piana di Belpasso nel deserto più totale di creare città mercato di creare di creare cose strabilianti di creare un parco avventura e attorno al parco avventura poi sono nati tutti i servizi sono nati i B&B i ristoranti le pizzerie è nata l'impresa sono nata le infrastrutture è nata è nata un'idea di impresa che prima non esisteva è nata ricchezza è nato quello che noi cerchiamo di inseguire quello che noi vorremmo non solo la ricchezza di tipo economico la ricchezza culturale la ricchezza sociale la ricchezza aggregativa e quindi è questo che noi immaginiamo dell'area dei fortini quando pensiamo all'area dei fortini e questo speriamo di poter realizzare insieme a voi perché voi avrete la parola sulla destinazione del Fortesiacci e quindi passo all'ultimo all'ultima condizione di sviluppo che la ritengo fondamentale essenziale perché è veramente importante tutti parlano di questi POR dei programmi operativi regionali tutti parlano di questi finanziamenti comunitari effettivamente tutti ne parlano perché c'è un motivo perché questo POR Calabria 2014-2020 è veramente una grande possibilità di sviluppo 2,3 miliardi sono stati stanziati per la Calabria 2,3 miliardi una cifra importantissima un miliardo e 800 mila euro quasi di fondi comunitari che difficoltà ha un comune cioè i fondi sono lì a portati di mano che difficoltà ha un comune ad accedere al fondo perché anche il fondo può anche passarti sopra la testa e andare via come spesso succede la difficoltà è quella di intercettare il fondo di avere capacità progettuale e la difficoltà è quella di attrarre il tuo fondo all'interno delle tue risorse finanziarie per questo motivo noi abbiamo pensato a una strategia di penetrazione e cosa intendo? Intendo che ci saranno quattro diversi profili che lavoreranno per l'intercettazione dei fondi abbiamo una commissione di europrogettazione permanente composta da professionisti e da ragazzi di campo che sono io l'ho scoperto con grande felicità che sono specializzati nell'europrogettazione daranno una mano per il loro paese sono risorse a costo zero che si pagano con la parte progettuale dei fondi poi abbiamo risorse interne del comune che io tendo sempre a dare la giusta importanza e devono essere valorizzate e poi abbiamo una serie di risorse di studi professionali particolari che sono specializzate nell'intercettazione dei fondi diretti comunitari e poi società specializzate nella ricerca dei fondi che attraverso un minimo contributo ti danno tutta una serie di informazioni e ti ritagliano dei fondi comunitari che sono a misura per le tue esigenze a misura per le caratteristiche oggettive e soggettive del tuo comune questa è la nostra strategia per l'individuazione dei fondi i settori sono tantissimi industria commercio costruzione energia trasporti servizi sanità pubblica amministrazione istruzione sociale cultura no profit c'è tutto in questi fondi ci sono 2,3 miliardi di disposizioni dei comuni a disposizione dei comuni virtuosi a disposizione dei comuni che hanno capacità progettuali io adesso vi leggerò velocemente alcuni fondi tanto per far capire di cosa parliamo alcuni il titolo di alcuni fondi che noi abbiamo perso abbiamo perso perché non sono stati intercettati contributi per l'acquisto di scuola bus competana trasporto persone diversamente abili fondamentale per il nostro comune scaduto 2011 2016 finanziamento a fondo perduto per interventi di adeguamento sismico ad edifici pubblici di interesse strategico scaduto 22 febbraio 2017 finanziamento a fondo perduto per attività culturali artistiche e sportive mirati alla promozione e al contrasto delle discriminazioni razziali scaduto 25-11-2016 finanziamento a fondo perduto per la redazione di piani di sviluppo comunale e servizi comunali scaduto 9-12-2016 contributi per la riqualificazione degli impianti sportivi scaduto 5-11-2016 finanziamento a fondo perduto per la diffusione delle potenzialità della banda larga scaduto 30 gennaio 2017 finanziamento a fondo perduto per i progetti di valorizzazione della cultura calabrese non scaduto ancora 19 giugno 2017 mancano 13 giorni contributo per il potenziamento del patrimonio pubblico per gli alloggi sociali questo è importantissimo non ancora scaduto finanziamenti agevolativi per le scuole per l'efficientamento energetico 30 giugno 2017 non ancora scaduto questo è per le scuole l'efficientamento energetico e poi questo è bellissimo l'ultimo ve lo dico perché è un finanziamento a fondo perduto per promuovere la cittadinanza europea cioè praticamente è collegato a tre settori particolari sono gemellaggio con altre città d'Europa reti di città quindi un contributo per l'associazione per le reti da formare nelle associazioni delle varie città un interscambio anche culturale progetti di società civile con associazioni culturali enti di ricerca enti di istruzione coinvolge anche la scuola sono progetti meravigliosi sui quali è chiaro bisogna lavorare tantissimo e noi abbiamo le idee molto chiare è chiaro che questi sforzi così importanti necessitano del contributo di tutti è inutile che lo diciamo cioè programmi così ambiziosi non possono coinvolgere solamente le compagini che vincono io credo che la sfida sia proprio questa sia quella di mettere in campo le migliori risorse perché lo sviluppo del nostro paese non conosce schieramenti non conosce divisioni e non conosce sicuramente invidio o gelosia o intestazioni di azioni io credo che su queste cose bisogna trovare l'unitarietà io credo che su queste cose nel rispetto delle posizioni che i cittadini ci vorranno assegnare bisogna trovare il modo per procedere e andare avanti per impiegare le migliori risorse perché sono opportunità che passano e questa volta passano una sola volta e non ritornano per la risoluzione dei problemi non abbiamo chiaramente né la bacchetta magica né non abbiamo la soluzione in tasca soprattutto per quelli che sono stratificati negli anni però abbiamo idee abbiamo idee abbiamo la capacità di perseguirle di portare avanti e abbiamo la determinazione e così vogliamo procedere uniti insieme agli altri e questa è la dimensione del mio impegno questa è la motivazione della mia candidatura sono io mi conoscete sono la mia storia la mia testimonianza il mio tempo la mia vita a servizio di questo paese io sono grazie io concludo dicendo che è possibile attraverso le idee attraverso i progetti i programmi le pianificazioni è possibile migliorare il posto in cui stiamo è possibile cambiare il nostro paese tutti insieme lo possiamo fare tutti insieme noi potremmo consegnare ai nostri figli e a chi verrà un paese un mondo migliore grazie grazie